Villa Cattaneo a Pordenone diventa sede di Polo Young, l'incubatore culturale dedicato alle giovani start-up e alle imprese culturali e creative del territorio regionale e non solo. Benvenuti al Polo Young, a Villa Cattaneo, siamo a Villanova, un gran bel posto, l'avevamo promesso agli alpini, vi ricordate che gli alpini avevano fatto per l'adunata un intervento molto significativo qui, in questo luogo, e gli avevamo promesso che l'avremmo attivato con i giovani, dando ai giovani la possibilità di cominciare delle loro attività, delle loro aziende, nel campo della creatività. Bene, questa sera l'inaugurazione ufficiale, ci siamo riusciti, la villa è piena, meglio di così non potevamo sperare. Il Polo Young è un posto dove solo le cose belle possono nascere, basta guardare l'architettura di una villa riportata al suo splendore per ritrovare poi all'interno delle tecnologie culturali e creative per entrare nella realtà aumentata, nella realtà virtuale, in musica ricostruita e in giovani di età, ma anche di spirito, che sviluppano impresa attraverso la cultura. È una start-up, è il primo polo culturale creativo a livello nazionale che oggi inauguriamo. Io credo di trasmettere a tutto il territorio, a tutta la regione, l'orgoglio di aver portato in una realtà splendida delle idee innovative che abbiano successo. Il tutto nella splendida cornice di Villa Cattaneo, con la sua struttura maestosa, il vasto parco antistante e la barchessa, a corredo di un quadro di bellezza ed emblema dell'eccellenza architettonica italiana e della Scuola Veneta in particolare.